Musica Cari amici telespettatori, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Questa è Fano TV e come sempre questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa del mattino che va in diretta alle 7.30 in replica nel corso della giornata fino all'ultima programmazione che è quella delle 13.30. Cominciamo dal santo del giorno come facciamo tutti i giorni. Allora oggi è Sant'Angela Merici, Sant'Angela Merici ci perdiamo veramente 20 secondi perché Sant'Angela Merici intanto è nata a Desenzano sul lago di Garda nel 1474. Se avete qualche problema con l'educazione dei figli in particolare, dei giovani, vi consiglio di leggere qualche scritto di Sant'Angela Merici. Troverete molte risposte, molte soluzioni ai problemi legati all'educazione dei giovani. Il sole è sorto alle 7.30, tramonterà alle 17.11. Allora andiamo adesso a vedere invece le previsioni del tempo. Eccole qua, queste riguardano la giornata di oggi, mercoledì 27, avremo cielo poco nuvoloso per nuvole basse, i venti sono di brezza leggera, il mare sarà poco mosso, attenzione le foschie e i locali banchi di nebbia. Domani giovedì 28, più o meno la situazione è la stessa e così anche venerdì 29. Che cosa succederà nei prossimi giorni? Avremo ancora tempo stabile, con assenza di precipitazioni, permarranno per l'intero fine settimana e l'inizio della prossima. Quindi penso che sia scongiurato anche il pericolo pioggia che si era ipotizzato invece ieri mattina. La nostra pagina web, quella che vi mostriamo adesso, occhialanotizia.it, in evidenza il malore al volante che ha colpito un uomo di 60 anni, un dramma che si è consumato ieri pomeriggio sulla E78, ovvero sulla Fano Grosseto, dove è morto un sessantenne di fossombrone, lo vedremo tra poco anche sui giornali. Andiamo soltanto velocemente un attimo a vedere le temperature. La temperatura alle 7.30 di oggi, di questa mattina, è di 4 gradi e 4, 4 gradi e mezzo. Allora adesso subito i giornali, cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. L'orrore olocausto, monito per il presente, commemorazione con gli studenti, la testimonianza di Marika Kavman sulle camere a gas, al Consiglio Comunale anche il prefetto Pizzi che segnala i rischi delle spinte contro il trattato di Schengen. E sopra, ovviamente si parla delle frontiere quando si parla del trattato, quello sterminio invece sopra ebraico diventato merce di consumo. Alle 18 alla Memo si presenta il libro Pop Shoah che affronta il tema dell'uso commerciale del genocidio. L'altra pagina del Corriere invece, il tema è l'argomento il carnevale. Carnevale a pagamento, ogni tanto torna e quest'anno, in questa occasione, torna perché? Perché ieri si parlava del carnevale un po' così così, rivisto, insomma un carnevale che si è già visto, con carri che hanno avuto un restyling ma che di fatto sapevano di qualcosa di già visto. L'idea di Noi Giovani, che è una lista civica che appoggia il sindaco di Fano, Massimo Seri, è per finanziare la Fano dei Cesari e il carnevale estivo. E poi fa una considerazione, se è vero che domenica scorsa c'erano 50 mila persone al carnevale di Fano, calcolando un euro di contributo ciascuno, si sarebbero raccolti 50 mila euro, un fondo importante per poter ricominciare a progettare la Fano dei Cesari, anche nella forma della Corsa delle Bighe che rappresenta l'iniziativa più spettacolare. Allora, tutto vero, l'unica cosa che naturalmente, come ormai ben sapete, sui numeri del carnevale, fin quando c'è da dare i numeri, si danno senza fare troppi problemi, quando però dobbiamo concretizzarli e far diventare, in termini monetari, insomma non sono 50 mila, chiaramente sono molti di meno, e quindi insomma non è così semplice raccogliere soldi. Però d'accordo invece sul fatto, ma non lo diciamo qui da Fano TV ormai da tantissimi anni, che il carnevale di Fano debba essere assolutamente a pagamento. Su questo non ci stancheremo mai di dirlo, così come siamo riusciti in qualche modo a far riportare i baci per Ugina al carnevale di Fano, speriamo di riuscire anche a far capire, o a far passare la paura di osare, a chi deve osare, di mettere semplicemente un biglietto all'ingresso del carnevale, come si fa in tutti i carnevali, anche i più piccoli, con tutte poi le variabili, quindi anziani che non pagano, bambini che non pagano, residenti magari con degli scoli, insomma tutta una serie di cose che si possono mettere in campo. Ho il ricordo invece del carrista Valerio Ferretti, è l'occasione per segnalare l'attuale crisi finanziaria e artistica del carnevale, l'amarezza di Pacassoni, si è persa la qualità. E lo fa Pacassoni, uno storico carrista, lo fa ricordando il compianto Valerio Ferretti, che è morto proprio a qualche ora prima dell'inizio del carnevale di Fano. Andiamo sulle altre pagine, velocemente da Marotta, sempre sul Corriere Adriatico. Cessioni simulate di immobili e usura. Nel mirino un cartello di imprese edili che farebbero capo a Giuseppe Ioppolo di Fano. L'imputato avrebbe effettuato prestiti con tassi del 400% ai danni di imprese di Marotta e Urbino. La pagina di Senigallia invece, eccola qua. Ricordate quella vicenda del botto, del petardo, della bomba carta che è stata buttata nell'altro del Consiglio Comunale di Senigallia, mentre dentro c'era di sera, insomma, sera tardi. C'era il Consiglio, c'erano i lavori del Consiglio. Allora c'era un fermo immagine, è uscito un fermo immagine sul quale indagava la polizia. Oggi esce allo scoperto invece Ennio Giuliani. Ennio Giuliani che è stato sempre un po' l'indiziato numero uno. E il giornale, il Corriere Adriatico, mette a confronto il fermo immagine, che è questo, con l'immagine, appunto, questo profilo che è quasi identico, ma chiaramente io non sto dicendo nulla, sto dicendo soltanto che c'è questo raffronto, questo confronto di immagini, dove qui c'è un cappuccio, di qua invece è avviso scoperto, adesso ognuno può giudicare, può fare le proprie valutazioni. Lui dice, questo ex consigliere indiziato per questo petardo lanciato in comune, mi hanno, dice, sospettate di me ma sono innocente. Con una lettera aperta ai senigalliesi, rivolta anche al sindaco, questo 68enne, ex consigliere comunale, sospettato di aver lanciato questo razzo pirotecnico in municipio, è stato solo segnalato ma rischia al massimo un'ammenda. La Procura infatti, dopo aver recepito l'informativa del commissariato, che indagava per danneggiamento e minacce, ha deciso di procedere contestando un reato minore, c'è l'articolo 703 del codice penale, che provvede una contravvenzione. Ecco, questo è l'articolo che troverete sulla pagina di Senigallia. Sull'altra pagina di Senigallia invece si parla di violenza e stalking alla fidanzatina, una love story, una storia d'amore che diventa un'ossessione, sfogata con minacce e pugni, è stato arrestato un 19enne, il giovane adesso è domiciliare, dopo le indagini della squadra mobile di Senigallia, non può comunicare con la ragazzina, una ragazzina di 17 anni. Questa è la notizia più in evidenza. Sotto invece, sempre da Senigallia, furto lampo in un appartamento, il proprietario esce per una breve passeggiata e così i ladri ne approfittano. La pagina di Pesaro invece del Corriere è per la sanità. Gestione Capalbo, Capalbo è Maria Capalbo, eccola qui vicino a Luca Ceriscioli, come la copione, in commissione ripete cose note, tenta di attuare l'atto aziendale di Aldo Ricci, che è l'ex direttore generale dell'azienda Marche Nord. Promette interventi per abbattere le liste di attesa e nuove assunzioni, nonché il potenziamento di oncologia. Adesso apriamo invece la pagina di Pesaro del messaggero, più medici per Marche Nord, la Capalbo in comune nomina del primario di ortopedia e bando per la medicina d'urgenza. Ripristinati i punti di primo intervento, sospesa l'occupazione dell'ospedale di Sasso Corvaro. Malore fatale al volante, muore mentre sorpassa. L'auto si è bloccata sulla Fano Grosseto, all'altezza di Rosciano. Colpito da infarto fulminante, un dipendente comunale di Serrungarina, tantissime le chiamate di emergenza al 113 ieri pomeriggio intorno alle 17.30 a Fano, traffico naturalmente in tilte, però tutto si è risolto davvero in pochissimo tempo, perché poi sono intervenuti tutti per mettere in sicurezza chiaramente la superstrada, hanno portato via subito la macchina, quindi nel giro di 15-20 minuti è stato risolto tutto quanto. Sono intervenuti la polizia stradale e il commissariato. Chi è questo sfortunato signore? È un impiegato, un responsabile tecnico della comunità di Serrungarina, si chiama Renato Zuccarelli, 60 anni il prossimo febbraio, se non ricordo male la data. E questa è la notizia di cronaca di ieri pomeriggio. Poi si parla anche sul messaggero dell'autopsia sul corpo di Federico, mentre oggi ci sarà l'ultimo saluto a Claudio. Andiamo allora in questa pagina a vedere che cosa scrive il messaggero. A Montecchio l'addio a Claudio, il dolce angelo. Per Federico invece si dovrà attendere, almeno domani, l'esito dell'autopsia fissata per oggi. Quindi Claudio, questo ragazzo che vedete in questa, che ho cerchiato con l'evidenziatore, oggi ci saranno i suoi funerali a Montecchio, mentre per quello di Federico Corsini, cerchiato con il pennarello rosso, eccolo qua, bisognerà capire, il magistrato vuole sapere, vuole capire con l'autopsia le cause, che cosa è successo. Qualcuno ipotizzava anche un malore al volante. E ieri sulle Siligate un altro incidente che ha visto coinvolta un'auto che si è capottata dopo uno scontro, ma abbiamo visto e abbiamo detto che ha seguito ieri il telegiornale che il conducente per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Andiamo adesso sulla pagina di Fano invece del messaggero. Ex Zuccherificio si apre un altro fronte giudiziario, la proprietà dell'area, che si chiama Madonna Ponte, impugna davanti al Tribunale Amministrativo la delibera della Giunta Fanese. Il nuovo ricorso non ferma però il Comune. L'assessore Paolini parla di un confronto che ci sarà con la città, anche perché parliamo veramente di qualcosa che sembra quasi preistorico. Bisognerà sicuramente rivedere un po' il progetto di quell'area, anche perché soprattutto i tempi sono cambiati, ma sono cambiati anche nel modo di gestire probabilmente le cose e quindi vanno riposizionate un po' tutte le pedine, un po' tutte le cose. L'amministrazione punta sullo sviluppo turistico in quella zona, turistico-sportivo, tagliando le superfici commerciabili. Stiamo parlando di quell'area dove ci sono i capannoni vuoti, quegli scheletri così brutti, che purtroppo sono anche in bella vista perché sono lì all'ingresso della città. Maxi bolletta dell'acqua. La società dice che noi non abbiamo nessuna colpa. Aset è verso il rinnovo degli attuali vertici. Chiudiamo con il resto del Carlino. Partiamo dalla pagina che si occupa della sanità. Pneumologia e gastroenterologia a Fano. È l'annuncio dato da Maria Capalbo di Marche Nord, alla commissione consigliare. Mancano i medici di pronto soccorso, nonostante i concorsi avviati, il problema poi c'è della mobilità passiva. Questo è un po' quello di cui si è parlato in questo consiglio. La pagina di Fano invece. Le nostre maxifamiglie sono ignorate dallo Stato. Giacomo Furlani è un assistente sociale, padre di quattro bambini, e dice che non siamo contro nessuno. Però, e sulle adozioni e sui gay, dice che è complesso, ma un figlio trova la propria identità nella diversità genitoriale, il che significa, tradotto in parole povere, che un figlio trova la propria identità dove c'è un papà e una mamma, e su questo non c'è bisogno di nessuno studio, ed è la cosa più elementare del mondo. Agguato al vetriolo, ricorderete l'agguato al vetriolo all'impresario funebre Paolo Ferraguzzi di Fano. Sono stati condannati al risarcimento i suoi colleghi. Sul caso Ferraguzzi, sentenza ribaltata in appello per due imputati su tre. La richiesta, stabilita una provvisionale di 25 mila euro, la parte civile ne aveva chiesti 250 mila. Dunque colpo di scena al processo d'appello per il lancio di acido in faccia all'impresario Paolo Ferraguzzi, un vero agguato sulla falsa riga di ciò che successe a Lucia Annibali anni e anni dopo. Questa avvenne il 31 agosto del 2003 alle 7.30 del mattino. Ci sono delle persone che in primo grado sono state imputate, insomma, tutta la storia, la cronistoria, potrete leggere sul giornale, sulla pagina di Fano di questa mattina. Andiamo invece sulla pagina 22 di Fano del Carlino. Infarto al volante, muore un impiegato comunale, il sindaco di Serra Ungarina, Marta Falcioni, dice mi aveva detto di non sentirsi bene, temeva fosse della febbre. Poi evidentemente c'erano già dei sentori. L'ho visto, dice Marta Falcioni, l'ho visto ieri sera, l'ho visto, racconto il primo cittadino ieri sera, dopo essere stata avvertita della tragedia da qualche collega via telefono, poche ore fa, verso le 13, ricordo che mi ha detto oggi non mi sento molto bene, forse mi verrà la febbre. E poi ancora sulla pagina di Fano del Carlino, sotto vedete il dovere di raccontare l'indicibile, l'indicibile è chiaramente l'olocausto, la testimonianza della vedova di Shlomo, Venezia, reduce da Birkenau. Toccante incontro ieri con gli studenti. Poi guardate questa fotografia invece, poi siamo in chiusura davvero, cercano di passare la ferrovia, però la sbarra si abbassa, rimangono intrappolati in auto con il treno in arrivo. E qui davvero, paura, paura al passaggio livello, traffico ferroviario interrotto, c'è già la freccia che ha indicato il giornale, ve la indico adesso, ve la cerchio con l'evidenziatore giallo, eccola qua, questa è una macchina, queste sono le sbarre, questa macchina che per un attimo, lì c'è spazio, quindi c'è margine per tenere in sicurezza un po' tutto quanto, però, insomma, ecco, questa auto sicuramente, questa persona a bordo di questa Nissan, con dentro quattro persone, tra cui un bambino, ha rischiato un po' troppo, ha usato un po' troppo. Era l'ultima notizia della nostra segna stampa, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata, e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale. Arrivederci.